La politica al centro dell'inchiesta sugli appalti truccati della ASL di Pescara. Luigia Dolce, ex coordinatrice della cooperativa La Rondine di Lanciano, ieri avrebbe detto a PM Benigni Sciarretta che l'appalto serviva proprio a portare soldi a Fratelli d'Italia. La Dolce sarebbe stata sostanzialmente il corriere delle tangenti tra Domenico Mattucci, ex presidente della cooperativa, e Sabatino Trotta, ex direttore del Dipartimento di Salute Psichiatrica della ASL. Denaro consegnato in due tranche, una prima dell'appalto e una dopo la giudicazione. Ma i soldi non erano per Trotta, avrebbe detto la Dolce in procura, servivano a crearsi un bacino elettorale. L'estate scorsa infatti Trotta si sarebbe recato a Roma, accompagnato dalla stessa Dolce, con una busta destinata a qualche esponente nazionale di Fratelli d'Italia, partito con cui il dirigente sanitario si era candidato alle scorse elezioni regionali, risultando il primo dei non eletti. Trotta però, secondo la Dolce, avrebbe preferito incontrare da solo colui che forse è un funzionario di un ministero, mentre la donna sarebbe rimasta a passeggiare per la capitale. Insomma, Trotta avrebbe tramato una scalata all'interno del partito, scalata possibile grazie alle disponibilità economiche della cooperativa da circa 700 dipendenti e 10.000 assistiti. Vi è poi il filone dell'inchiesta riguardo la corruzione nell'azienda sanitaria. Il direttore generale Vincenzo Ciamponi, anche lui nel registro degli indagati dopo la confessione di Mattucci, avrebbe ricevuto da quest'ultimo e tramite Trotta un'automobile, che poi è risultata essere stata pagata con un assegno firmato da Ciamponi. Ciamponi intanto negli ultimi quattro giorni ha ribaltato la sua posizione. L'azienda sanitaria rimase in rigoroso silenzio quando ad inizio mese furono arrestati Trotta e Mattucci, silenzio che fu spezzato quando Mattucci, la scorsa settimana, avrebbe nominato il direttore generale davanti ai PM. A quel punto Ciamponi diramò un comunicato in cui si dichiarò categoricamente estraneo ai fatti, precisando, a proposito dell'appalto, che il provvedimento di aggiudicazione e l'accessivo contratto sono stati sottoscritti a seguito di approfondita e rigorosa istruttoria ad opera dei competenti uffici amministrativi della ASL, con la consulenza di un legale esterno esperto nella materia. Insomma, l'appalto è legittimo, aveva detto Ciamponi, benché il nuovo presidente della cooperativa avesse già richiesto l'annullamento. L'altro ieri, invece, quattro giorni dopo il primo comunicato, Ciamponi ha firmato una delibera con cui annulla il contratto da 11 milioni di euro. Grave illecito professionale, si legge tra le motivazioni dell'annullamento di una gara che fin dall'inizio, e scritto nella delibera, perseguiva interessi privati e non pubblici. E due giorni fa, quindi, che la ASL ci si sarebbe accorti che qualcosa non andava, benché la procura avrebbe segnalato prima della firma del contratto che due persone del consorzio SGS, di cui la rondine fa parte, fossero già indagate per reati analoghi. Al momento il maggior ostacolo per gli inquirenti è il non poter conoscere la versione di Trotta, morto suicida in carcere a Vasto il giorno stesso del suo arresto. A parlare per il medico defunto ora potrebbe essere il suo smartphone sul quale è in corso la perizia informatica.